e non l'hai neanche puntata più di quel tanto perché alla fine era lì e dove l'hai messa di sonno io non riesco a spedere il cibo con la ruota vieni su, lele, metti di là da parte no ma di qua scappa via ma ti vado a mollare la moto hai capito perché devi trovare l'attimo fuggente di Dagli hai visto che c'era? però vedi che lui ha quasi fatto più fatica di lui che la moto era già diritta vedi che la moto devi dargli il forte per scappare fuori però vedi che è più facile che non quasi come la fa lui perché c'è la moto già diritta è più fatica lui è più facile perché lui parte diritto se tu la guardi di fianco la sua moto è diritta invece la sua vedi che è anche capisci? tu fai più fatica perché ce l'hai ad angolo invece lui parte già con la moto di diritto però dopo come lui devi dargli tanto per saltar fuori se no arrivi corto corto poi sei stanco se solo piglia l'attimo che si tira avanti da fuori che cazzo lui la fa di tecnica tu la fai di tecnica proprio basta se sei cotto basta però c'eri eh la penultima volta che l'hai fatto non adesso prendi la ruota sua la stessa quella dietro solo che è risbilanciato tutta volta non è risbilanciato ma è risbilanciato certo rimani risbilanciato lì indietro ma la moto la mandi su bene questo è uguale a lui è risù appena appena iniziali il rischio è rischio lì 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 la lì prova ad appoggiarti al pelo e andare via subito non stare a pesarla perché sennò ti sconcentri tutto con l'equilibrio se arrivi giusto gli dai sennò ti fermi appoggiati e vai via è corta la sua corto corto sono cotti sono cotti è corto è corto Grazie.